Un ambiente semplice, fatto di relazioni umane, di grande fede e di impegno nelle attività manuali. Nei laboratori incontriamo alcune delle 18 ospiti della Casa dei Filippini delle Poverette di Casa Nazareth, istituto fondato da padre Filippo Bardellini, morto il 24 agosto di 65 anni fa. Suor Maria Teresa l'ha conosciuto un mese prima della morte. Mi è rimasto impresso quello che ho letto sui suoi manoscritti, perché inculcava a tutte noi di essere mamme per loro, cioè di dare quella tenerezza, quell'amore, quella sensibilità, che io quando c'è qualcuna che sta poco bene, sto male anch'io. Perché queste hanno bisogno di affetto e di amore. Con questo si ottiene tante cose. E questo è quello che proprio noi cerchiamo di portare avanti, nella nostra semplicità, nella nostra debolezza. Le ospiti hanno passato un periodo difficile a causa delle misure precauzionali necessarie per il Covid. E hanno ripreso alcune attività, come le uscite in città e fuori Verona. È stato un periodo complicato. La difficoltà era nel gestire la parte sanitaria, che era la più importante in questo periodo. E poi quello che è il benessere delle ospiti, perché non si sta male solo se si prende il Covid, si sta male anche se si vive male in una struttura sempre chiusa. Per cui abbiamo cercato di conciliare i bisogni con anche gli obblighi di legge. Insomma, non è stato semplice. Abbiamo cercato quando possibile di poter uscire. Noi, tra l'altro, abbiamo anche la fortuna di essere in una zona anche abbastanza chiusa. Quindi non c'era questo gran traffico, essendo una ZTL. Insomma, quindi uscivamo nel quartiere se si poteva. Quando è stato possibile abbiamo fatto uscite anche un po' più importanti. La ZISE non tanto tempo fa. Abbiamo diverse attività, l'attività di cucina, di pittura, di assemblaggio. Sono utili alle ospiti sia per mantenere il loro benessere, sia per limitare il decadimento che magari alcune più anziane hanno con l'avanzare dell'età. Le aiutano nella manualità fine e anche cognitivamente per rimanere attive e partecipi alla vita della comunità.